Allora, ciao a tutti inizio questo video ringraziando intanto dando questo codice sempre gratuito ovviamente della serie Stilpe Draghi e ringraziando tutti gli iscritti e chi ha messo mi piace ai miei video quindi sono nuovo quindi sono contento di aver avuto già qualche iscrizione e qualche mi piace e dopodichè oggi vi porto l'apertura di 10 pacchetti random e abbiamo un pacchetto di richiamo delle leggende poi 1, 2, 3, 4 di forze scatenate 1, 2, 3 di senza paura poi 1 di Irgol Sol Silver e 1 di battaglie trionfali ok allora sono ancora nelle bustine quindi non ho neanche colto dalle bustine protettive qui c'è un fogliettino con Darkrai ok questi sono i soliti fogliettini che si trovano allora vediamo un po' richiamo delle leggende che cosa ci prospetta pacchetto salvato pacchetto salvato alla perfezione ok io non conosco tutti i trick di tutti i set ma penso che siano per questi set qui che ho nominato sempre 1, 2, 3, 1 e 2 allora abbiamo domande dell'intervistatrice quilava magbi pineco magica non c'è niente da fare mi perseguita in qualsiasi set clefair coffin marip foretress e pigiot ok quel pacchetto di richiamo delle leggende non è stato chissà molto soddisfacente vediamo con forze scatenate allora ogni mio video più o meno dura un 8-9 minuti non di più dopo di che farò altre parti eventualmente cerchiamo di non rompere i pacchetti perché non mi ricordo quelli che ho e quelli che non ho quindi nel dubbio li apro per benino allora abbiamo amo buono numen trainer che sarebbe plus potenza spero widol sto vedendo qualcosa io qui vedo qualcosa ipom misdrebus cherubi taurus e leggenda sicunentei che è la 95 su 95 vediamo un po' se ce l'ho non me ne ricordo tutte sinceramente la verità vediamo un attimino allora la 95 su 95 ce l'ho già quindi per chi volesse la scambio bella apriamo l'altra sempre di forze scatenate anche con questo set sono a buon punto a me manca la seconda parte mi manca la 94 su 94 la parte A questo pacchetto l'ho sfasciato quindi la parte allora abbiamo Amo Buono di nuovo Quartortel Poliwhirl Wulpix Tropius Turtwig Stuntler Larvitar Mismagius Exatu Olografica che è questa non ho andiamo avanti devo essere abbastanza celeste altrimenti per 10 pacchetti veramente devo fare 5 parti allora questo salvato alla perfezione andiamo sempre con il trick che per forse scatenate è giusto allora caramella rara Poliwhirl regolazioni dell'ingegnere Poliwag Tè di Ursa Zubat Cherubi Misdrebus Pupitar e Kingdra abbiamo un ultimo di forse scatenate penso che sarà anche l'ultimo della parte i foletti sono tutti uguali quindi vi faccio vedere questo ce l'ho già salvato prima quindi possiamo anche sfasciarlo andiamo a fare il trick allora Blasel regolazione dell'ingegnere Metang Cherubi Natu Riolu Riolu Cinciu Vulpix Spiro e Torterra Olo che è questa lo grafica perfetto allora qui finisce la prima parte dell'apertura random dei pacchetti ci sentiamo per la seconda parte ciao Ciao